Arrivate anche ad Arezzo le mascherine della regione toscana. I dispositivi adesso saranno impacchettati e distribuiti gratuitamente alla cittadinanza. Sono 500.000 e ne verranno consegnate 5 per ogni cittadino. In questo momento il personale sta prendendo pacchetti da 5, le sta confezionando all'interno di sacchetti di plastica che vengono opportunamente sigillati. Poi questi sacchetti a seconda del numero di componenti del nucleo familiari verranno imbustati in delle buste postali di carte e verranno consegnate alla cittadinanza a mezzo del postino. La macchina del comune è dunque già in moto. Vista la mole di lavoro e la necessità di fare in fretta è prevista anche una turnazione del personale per poter così consegnare prima possibile direttamente al domicilio le mascherine. Attualmente sono state portate in istampa le buste cartacee dove viene sigillato sopra il nominativo del nucleo familiare che presumibilmente dovrebbero esserci consegnate entro giovedì. Quindi se tutto va bene inizieremo la consegna dal centro città fra lunedì e martedì. A lavoro sia negli uffici della manutenzione in via tagliamento che al campo scuola ovviamente nella massima sicurezza. Ovviamente è stato scelto il campo scuola proprio perché abbiamo dei ampi spazi ma anche nelle postazioni di via tagliamento i ragazzi sono stati posizionati due per ogni ufficio ma abbiamo scelto ovviamente anche gli uffici quelli più grandi. Quindi rispetto alla volta scorsa abbiamo scelto il campo scuola perché ovviamente abbiamo l'impianto di riscaldamento. E sì loro lavorano con tutta sicurezza distanziati quindi oltre la normativa ci prevererebbe un metro e mezzo ma come vedete sono abbondantemente oltre due metri muniti di mascherine e guanti. Grazie.